Buon salve cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery E' uscito un nuovo capitolo, ma 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 Ci dovremmo consultare su Torvus, fare cose eccetera Ma oggi dobbiamo andare avanti con questa cosa qui Nell'ultima puntata mi sembra siamo andati avanti con cose da cavalli Quindi oggi ci metteremo avanti con il cane fifone Bisogna preparare una pozione Ragazzi speriamo che non si blocchi il gioco Perché a questo punto c'è un piccolo problema con questa quest Infatti dovete avere la skin originale del gatto Ma abbiamo già fatto cose quindi non ho sbagliato assolutamente Ah ragazzi nell'ultimo video mi sono dimenticato di vedere Se effettivamente potessimo fare questa cosa ancora con 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 Dove cavolo è? Non possiamo farlo Ragazzi Bill ovviamente non è disponibile perché è stato diplomato Quindi bisogna ricordarci di fare tutte queste cose prima che loro se ne vadano Ma 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 non lo farò adesso Potrei portare l'infattore a livello 8 magari dopo Ragazzi bisogna scoprire un po' di cose nuove Andiamo nel corridoio a preparare una pozione per aiutare il cane fifone Maledetto cagnaccio Fifonaccio Oh con Penny Ah Dolce mia Penny Bene Credo che abbiamo tutto ciò che ci serve Per preparare la pozione rilassante A uno di voi nel mio gruppo telegram Chi vuole iscriversi il pixel matto Trovate il link qua sotto Mi ha detto che nella quest dell'abraxan Abbiamo preparato una pozione In realtà la pozione era per questa quest Lì le abbiamo dato all'abraxan del semplice whisky Tutto qua Grazie per aver accettato Penny Non è stato facile convincerti Vabbè Bastava abbassarlo un pochettino Blum 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 e basta Beh non voglio che ci becchino Ma Sono davvero troppo felice Quando ho la possibilità di sperimentare altre pozioni avanzate Bene Perché di sicuro non sarei riuscito a preparare così bene questa pozione senza di te Ma se ancora non l'abbiamo iniziata neanche a preparare Come fai a saperlo? Io scommento di sì Rocky Devi almeno sapere quali ingredienti ci sono nella pozione rilassante Ah Aspettate un attimo Vada per favore che qua è difficile sapete? Ragazzi non ho la più parola di idea Però sui però penso che potrebbe Speriamo Credo sia ruggiata lunare lavanda e tenia Mi auguro No In realtà sono lavanda a cuore di cocodrillo e menta Ops Vabbè Penny Per questo ci siete non io Ho indivinato solo un ingrediente Sono felice che sia tuo a preparare la pezione Penny Ora cominciamo a preparare questa pozione rilassante Visto che tu sei un cretino e non sei in grado di fare le cose Devo fare tutto io qua come al solito Abbiamo fatto arrabbiare Penny Ragazzi abbiamo fatto arrabbiare Penny Ragazzi io ci ho provato Ma per fortuna che voi vedete le cose Potete farle con le mie soluzioni Tu puoi mescolare gli ingredienti Credo sia l'unica cosa che potresti fare Grazie Penny Non ricorderei mai tutti questi passaggi Per questo c'è Penny Forse dovremmo fare non so cosa Visto che non ho letto Maledetto me Immagino che avrei dovuto prendere appunti Ma c'è Penny a fare le cose Quindi chi se ne frega no? Il bello di questo è proprio questo Mi passeresti la lavanda? Subito signorina È divertente guardare un genio delle pozioni all'opera Vela grande Penny Apprezzo il tuo aiuto Hai mai provato la pozione rilassante? Oh che relax ragazzi Non ricorderò Questo abbiamo già letto Forse dovremmo bloccare questa porta con la lavagna Così non ci pencheranno Ecco questa non è una brutta cosa Basta un qualcosa Gattino 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 Immagino che avrei dovuto prendere L'abbiamo già letto ragazzi Ed eccoci qua 5 stelline per noi possiamo andare avanti Mamma mamma Eh il genio delle pozioni Non lo preferirei a fare dell'altro Ma dettagli Grazie ancora per il tuo aiuto Penny Se non placca le paure di Thor Non so più cosa potrà farlo Thor? Il cucciolo di Hagrid? Sì quanti altri Thor conosci? Rocky non mi hai detto che volevi dare la pozione rilassante a un cane Non si può dare la pozione rilassante a un cane? Credo di sì ma non voglio fare esperimenti su Thor E quindi come facciamo? Non so come possa reagire un animale a una pozione rilassante Si rilasserà presumo Ehi parlando di animali Dove è finito il tuo gatto? Ecco mi ha pure perso il gatto È qua È lì dietro l'ho visto Bianca Bianca Oh no Guarda Perché c'era della pozione rilassante? Ecco abbiamo ucciso il gatto Ragazzi abbiamo ucciso il gatto Bianca deve aver bevuto un po' di pozione rilassante Il tuo povero gattino è KO Questo è il gatto che russa? Avrei dovuto sapere che Bianca avrebbe finito per combinare guai Bianca combina sempre guai Che si fa? Si aspetta che si risvegli? Corro a portare Bianca in infermeria Trova Ben e Thor Ci vediamo lì Beh sta dormendo dai Qual è il problema? Mamma mamma Mao Questo video è leggermente breve Ma non andremo avanti oggi Perché comunque questo è il secondo video della giornata E direi che per oggi è così E anche perché qua sta facendo talmente caldo Che mi sto praticamente sciogliendo Sono tipo un Non ce la faccio più Ma ragazzi non vi preoccupate che nella prossima puntata uscirà di nuovamente un nuovo video Micio Mao Direi che per oggi è tutto Ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter Quas Mystery Mentre io qua continuerò ad andare avanti Qua e non fare assolutamente nulla Ma siamo ancora a zero Mamma Mao Direi che per oggi è tutto Mi raccomando lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Atrivate la campanella E se volete vedere questi video di anteprima Ovviamente abbonatevi al canale Qua sotto ovviamente tutte le informazioni Per oggi è tutto Che altro dire Fatto il Miss Gatto Mamma Mao Mamma Mao Mamma Mao Vี่ja Mamma Mamma .